Spesa Mica, scelgo bene ogni giorno. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consegnare il meglio ogni giorno. Spesa Mica, salumi, carni, formaggi, frutta, vini e tantissimi altri prodotti sono selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Vieni a trovarci al supermercato Spesa Mica a Marina di Camerota in via San Domenico numero 14. Spesa Mica, scelgo bene ogni giorno.